reale mutua ti protegge in ogni campo e con virtual hospital hai tanti servizi dedicati come un medico h24 a portata di click fino al 31 maggio con l'offerta assicurativa smart puoi avere virtual hospital a metà prezzo prima della sottoscrizione leggere le condizioni nel sito informativo su reale mutua.it tutto questo per te